L'1.03, buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. La politica in primo piano, giornata ad altissima tensione per i 5 Stelle. Sulla piattaforma Russo gli iscritti hanno votato sulla partecipazione del movimento alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Netto il risponso per il 70% dei votanti, il movimento deve correre da solo. Un duro colpo al governo e al leader pentastellato Di Maio. C'erano diverse linee di pensiero nel Movimento 5 Stelle rispetto al fatto che servisse una pausa dalle elezioni per poter fare gli stati generali a marzo. Gli iscritti ci hanno detto di presentare le liste in Emilia Romagna e in Calabria. E voglio dirlo chiaramente, ci sarò in prima linea con tutti gli attivisti, i candidati. E in generale posso dire che questa risposta è una risposta che chiede al Movimento 5 Stelle di andare avanti come un treno. Questo il primo commento di Luigi Di Maio al no alla pausa elettorale arrivata dal voto degli iscritti del Movimento che di fatto ha smentito la richiesta del capo politico che avrebbe voluto avere più tempo utile appunto per dedicarsi alla riorganizzazione del Movimento. 19.000 no contro 8.000 sì. Praticamente 70% contro 30% e, dettaglio non trascurabile, una partecipazione al voto che forse mai si era rivelata così bassa. 27.000 partecipanti contro 125.000 iscritti. E il capo politico del Movimento, da tempo alle prese con i mugugni interni, per i suoi troppi incarichi e per una striscia di risultati elettorali che solo con un eufemismo possono definirsi deludenti, si ritrova ora a dover rimettere in piedi liste solitarie in un movimento percorso da mille brividi interni. in vista di elezioni regionali, quelle del 26 gennaio, che in particolare per quanto riguarda l'Emilia Romagna hanno già acquistato il sapore di dentro o fuori con uno zingaretti che continua a chiedere un asse più strutturato a quei pentastellati e che ora non potrà trarre come PD beneficio dalla mancata presentazione della lista Movimento 5 Stelle alle prossime regionali da parte degli attuali alleati di governo, il cui capo politico aveva già derubricato a esperimento non riuscito, l'esperienza Umbra. L'Ocse promuove le misure messe in campo dal governo e parla di segnali incoraggianti per l'economia italiana. C'è luce in fondo al tunnel, ci sono le condizioni per far ripartire la crescita, scrivono gli esperti dell'organizzazione parigina nel rapporto sulle prospettive del prossimo anno. Riviste al rialzo le stime del PIL. Un'insolita professione di ottimismo in tempi di stagnazione economica è quella arrivata dall'Ocse e precisamente dalla sua capoeconomista Lawrence Boone. Si comincia a vedere una luce ed è bene così queste le sue parole sul nostro paese. Una luce legata, a suo avviso, al fatto che oggi in Italia vi siano le condizioni necessarie a far ripartire la crescita, a cominciare da un vero dialogo con l'Europa fino ad arrivare al sostegno, all'attività economica e al piano Industria 4.0. Insomma, dopo la non bocciatura da parte di Bruxelles, da Parigi è arrivata per la manovra italiana una sostanziale promozione, ma soprattutto, per una volta, una revisione al rialzo delle stime di crescita, lievissima, ma che comunque per il 2019 porta il PIL al più 0,2%, un decimale in più rispetto alle previsioni di governo e Commissione europea. Tutto starà a vedere, però, se quella luce diventerà più intensa nei prossimi anni. Per ora, ad oscurarla, ci pensa un rapporto debito-PIL stimato dall'Ocse in aumento, sia per quest'anno che per l'anno prossimo, sia pure ad un ritmo inferiore a quello previsto da Bruxelles. Collocare quel debito su una traiettoria discendente sostenibile, ma allo stesso tempo accompagnare la crescita dovrebbe essere, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, la principale missione dell'esecutivo e la razionalizzazione delle spese e la via maestra caldamente consigliata. A cominciare, oltre che dall'abolizione di alcune esenzioni fiscali, in primis quelle dannose per l'ambiente, dalla revisione delle regole sul prepensionamento, tradotto, quota 100 andrebbe rivista, se non completamente abolita. Altri 90 migranti sono stati salvati dalla Ocean Viking, nave di Vendici Senza Frontiere SS Mediterranea. Si tratta del terzo soccorso dell'imbarcazione che ora ha a bordo oltre 200 persone e chiede un porto di sbarco sicuro. In mattinata da registrare un altro salvataggio a 50 miglia dalle coste del nord della Libia, la Open Arms, la nave dell'omonima ONG spagnola, ha recuperato in mare 73 persone. Sono 69 uomini, 4 donne con 2 bimbi e 24 minorenni. Una barca invece questo pomeriggio, bucato ogni controllo, è riuscita ad arrivare sull'isola di Lampedusa. A bordo c'erano 74 migranti che hanno dichiarato di venire dal Bangladesh. La bufera su Benjamin Netanyahu adesso. Il procuratore generale israeliano lo ha incriminato per corruzione, abuso di fiducia e frode, accuse gravissime per tre diverse vicende giudiziarie. Netanyahu si professa innocente, ma per lui si apre ora una delicata partita giudiziaria. È stata la giornata più lunga e forse più difficile per il premier israeliano uscente Netanyahu. Il procuratore generale Avika Imandelblit ha deciso di incriminarlo per corruzione, frode e abuso d'ufficio. È il primo caso per un primo ministro in carica nella storia dello Stato ebraico. Netanyahu in un primo caso è accusato di aver accettato regali costosi fino a un milione di shekel, circa 260 mila euro, da parte del miliardario Arnold Milkan, mentre nel secondo è di aver cercato un accordo con l'editore del quotidiano Idiotaronot, Arnold Moses, per avere una copertura mediatica positiva. In cambio, avrebbe promesso una legge che avrebbe limitato il giornale rivale Israel Ayom. Ma forse è il caso terzo, quello più grave e insidioso per Netanyahu, quello appunto che prevede il reato di corruzione. È sospettato di aver negoziato con Shaul Elovich, azionista di controllo del gigante telefonico israeliano Bezek, tra il 2015 e il 2017 quando era premier, sempre per avere una copertura positiva da parte del sito di notizie Walla in cambio di politiche governative favorevoli all'interesse di Bezek. Tutte accuse che stasera in diretta televisiva Netanyahu ha definito false, non solo, anche pretestuose, di fatto un tentato colpo di Stato ordito per farlo fuori come primo ministro. Ma ora non è affatto chiaro cosa possa accadere, ha annunciato che andrà comunque avanti in politica ma in teoria dal momento in cui le carte dell'incriminazione verranno trasmesse alla Knesset, il Parlamento dello Stato ebraico, Netanyahu avrà 30 giorni per chiedere di avvalersi dell'immunità parlamentare. Torniamo in Italia, la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni per omicidio e occultamento di cadavere per Veronica Panarello, la madre di Loris, il bambino di 8 anni ucciso a Santa Croce Camerina il 29 novembre del 2014 il cui corpo fu ritrovato in un canalone non lontano da casa. Tra 5 giorni Veronica Panarello dovrà ricomparire in aula perché imputata anche per calunnia accusò infatti il suocero di essere l'autore materiale del delitto. Ed era l'ultima notizia e l'informazione torna come sempre domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Grazie per la visione